Buongiorno, sono Giaferi Ermal, responsabile tecnico della Eurotech SRL. Eurotech SRL è un'azienda che ormai da dieci anni è nel settore della sicurezza e propone servizi sia di formazione che di distribuzione di impianti e sistemi di sicurezza. Tra i quali sistemi di videosorveglianza, sistemi di antiintrusione, controllo accessi, sistemi di automazione e di domotica. Tra i partner principali sono Uniview nel ambito della videosorveglianza, che propone sistemi all'avanguardia della TVCC, leader mondiale nell'IP. Sull'antiintrusione il nostro partner è la Bentel, che fornisce sistemi di antiintrusione di ultima generazione e altri partner sulla sicurezza. Oggi il nostro scopo principale era quello di rendere chiaro ai professionisti del settore sicurezza come Uniview si sta muovendo per rendere i propri prodotti in linea con le ultime normative in vigore del trattamento dei dati. A parte la protezione in termini proprio locali, in cui ognuno di noi deve essere consapevole di come tratta questi dati e delle contromisure più semplici e efficaci, come il cambio password e limitazione di accessi. La cosa più importante su cui abbiamo messo un grande risalto è quello sulle problematiche legate alle protezioni del cloud. Oggi i servizi si stanno indirizzando su tipologie cloud, addirittura alterando a servizi multi cloud. Riuscire a confinare, arginare le vulnerabilità di questi sistemi è il primo passo che Uniview insieme a Eurotech si sono posti per quest'anno. Inoltre Eurotech insieme in collaborazione con gli altri enti certificatori sta dando continuità a uno dei obiettivi che è la formazione organizzando tanti percorsi che insieme ai professionisti del settore, ai installatori o ai system integrator in modo da chiarire e dare le giuste indicazioni su come operare, cosa devono fare per far sì che i loro sistemi, le loro aziende siano in regola con le ultime normative e soprattutto dare degli esempi pratici per far sì che queste nuove atti, nuove leggi siano alla comprensione di tutti.